Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR Grazie per aver scelto questo video, è rilassante Per chi non mi conoscesse, io sono Federica E quello che state per vedere sarà un video in whispering In cui spacchetterò questo regalo che ho appena ricevuto Se siete curiosi di sapere che cos'è Ma soprattutto se avete voglia di ascoltare un bel po' di suoni rilassanti Della carta e non solo, accompagnati ovviamente dalla mia voce in whispering Continuate a vedere il video Vi consiglio, ti consiglio, di indossare le cuffie per ascoltarlo al meglio Anche perché ho un nuovo setting che sto sperimentando proprio oggi Oltre ai miei due microfoni root Ho deciso di mettere anche un microfono centrale Lo zoom H6 E l'esperienza audio dovrebbe essere 3D Quindi molto 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 immersivo Spero che ti piaccia Se è così fammelo sapere lasciando un mi piace E soprattutto se non sei ancora iscritto oppure iscritta a questo canale E fallo adesso cliccando il bottone qui sotto E soprattutto cliccando sulla capabilità Per non perdere tutti i prossimi video Super 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 rilassati Detto questo passiamo al video E iniziamo Eccoci Allora devo dire innanzitutto che sono davvero molto molto emozionata Nell'aprire questo pacchettino Perché si tratta di un regalo davvero speciale Infatti me lo hanno inviato I ragazzi di Sticky Sticky è un progetto di un'azienda trentina Io vi lascio ovviamente tutte le informazioni giù nell'info box E anche il loro link Se volete dare un'occhiata allo shop Per guardare appunto i loro prodotti E dicevo è un progetto di questa azienda trentina Formata da ragazzi Inizialmente era un progetto nato totalmente femminile E rivolto a un pubblico femminile Ma nell'ultimo periodo si è aperto anche allo diverso maschile Sia nella fase di produzione E quindi per quanto riguarda il team Sia per quanto riguarda il target Quindi anche se siete dei schietti Potrà interessarvi molto probabilmente Il contenuto di questa carta Triggerosissima Rosa Dunque cosa fa Sticky? Producono magliette Non si tratta di magliette normali Ma sono magliette ricamate Che hanno come obiettivo Quello di rappresentare le persone Cogliendone la diversità che le rende uniche Infatti c'è una serie di magliette Dedicate alle varie personalità E spero Siete curiosi Di scoprire quale Ho scelto io E soprattutto spero che poi mi diciate Nei commenti una volta visto Il tipo di maglia che appunto Ho scelto Se secondo voi mi rispecchia Quindi Passerei ad aprirlo In questo pacchetto Quindi a fare un po' di suoni Prima però vorrei darvi giusto qualche chiave Per comprendere per quale motivo Ho scelto Di portare avanti questa collaborazione Il motivo principale Che i valori di questa azienda E di questo progetto in particolare Sono L'empatia e il rispetto L'uguglianza e la diversità L'artigianalità E soprattutto La gentilezza Sono tutti valori che assolutamente condivido E quindi Non potevano dare spazio A questo bel progetto Anche qui Nel mio canale Ora mi taccio E vi faccio ascoltare E sono di Deglopopsic Qui c'è il Bellettino personalizzato Che non riuscirete a vedere Forse Comunque vi metto Delle foto su Instagram Sia della maglia Sia del pacchettino Che dice Questa t-shirt È stata Ricamata Per Feri Non so se potete apprezzare Ma guardate Guardate anche qui Tutto cucito A mano Devo ancora organizzarmi bene Con questo setting Con questo setting Tra l'altro Tra l'altro Fatemi sapere Se il suono Arriva effettivamente Da orecchio a orecchio E che cosa cambia Rispetto al video precedente In cui i microfoni Erano solo due Di base Penso che potrei Lasciare Quell'impostazione Quindi con solo Due microfoni Però se preferite Posso anche Introdurre Questo terzo Centrale 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 Allora Ho trovato Questi due Pugliettini Questo è un adesivo In cui C'è scritto Femmina E mi Stra Piace Poi Questo Oh che carino Guardate Ciao Federica Ti ringraziamo Per esserti fidata Di noi C'è anche un cuorecino Meraviglioso Speriamo che la t-shirt Ti piaccia E ti rappresenti Se ti interessa Ti lasciamo Un cubano Del 10 per 100 Per le tue fatine I tuoi olfetti Sto piangendo Da inserire Al momento dell'acquisto Veri 10 Ecco il codice Ancora grazie Un grande abbraccio Irene Grazie Irene davvero Allora quindi Il codice Sconto per voi Che vi dà diritto Al 10% In meno sugli acquisti È veri 10 Però lascio comunque Scritto qui Nell'info box In modo che Possiate andare A copiare E incollarlo E ora Finalmente Veniamo alla Paglietta Che meraviglia Che meraviglia Sticky Embroidery Ricamata Con la nostra Passione Indossata Con la tua Personalità T-shirt 100% Cotone Made in Italy Ovviamente Faccio un po' Di fabric Faccio un po' Che belle Fabricizasse mi hanno proprio l'idea di una carezza ok, allora ovviamente ho scelto una taglia smolla perché io sono piccolina è meravigliosa togliamo il cartellino guardate un po', vedete c'è scritto resilienza e io trovo che assolutamente mi rappresenti moltissimo con questo gerottino viene messo sulla rosa vi racconto una cosa abbastanza personale quando ho avuto la mia primissima delusione d'amore nel periodo in cui mi stavo lasciando con il mio fidanzato dell'epoca e c'erano comunque delle incomprensioni ci capitava poi di fare pace e io dicevo una cosa temerissima cioè passipua che vuol dire voleva dire secondo me fammi passare il dolore e il mio fidanzato che era anche il mio migliore amico mi faceva il gesto di mettermi un gerottino qui sul cuore e questa cosa del gerottino credo di averla portata avanti anche nella storia successiva comunque e il gerottino sul cuore è bellissimo e la rosa non lo so mi piace perché mi ricorda un po' il piccolo principe e il fatto che si diventa responsabili della propria rosa ricordatevelo sempre siete responsabili di chi addomesticate allora il regamo è umano anche è veramente fatto benissimo io non so se possiate vederlo magari ve la faccio vedere ha indossato questa t-shirt mi sembra che vesta abbastanza in maniera abbastanza ampia perché non sembra una t-shirt troppo stretta ovviamente è cotone quindi lavandola si restringerà un po' però adesso cerco di fare delle foto e ve le metterò poi su instagram in modo che possiate vedere meglio questa meraviglia quindi grazie 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 di cuore a Irene e a tutti gli altri ragazzi di Sticky Alessandro Liliana Federica Martina e Miriam grazie di cuore per questo bellissimo regalo io spero che il video sia stato rilassante anche se è molto semplice questa volta mi raccomando andatemi a cercare su instagram mi chiamo anche lì feri a-s-m-r e ti farò vedere la foto di questa maglia indossata per oggi è tutto spero che il video vi abbia tenuto compagnia se è così fatemelo sapere scrivendomi in un commento compagnia e io saprò che siete arrivati fino alla fine e per il resto non mi resta che augurarvi la buonanotte e se vi va noi ci vediamo al prossimo video poi ci vediamo poi ci vediamo poi ci vediamo